Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono con Miriam e facciamo la Whisper Challenge. Praticamente si tratta che... si tratta che... Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono con Miriam e facciamo la Whisper Challenge. Praticamente dobbiamo metterci delle cuffie con la musica ad alto volume, mentre l'altra deve dire alcune frasi e quindi quella con la musica deve capire che cosa sta dicendo. Con un massimo di 10 parole. Sì, io spero di non aver sforato, non le ho contate però... Comunque, prima di iniziare devo salutare una ragazza, Silvia, che ho conosciuto nel gruppo di Romeo e Giulietta e che mi ha chiesto di salutarla, quindi la devo salutare. Ciao. E quindi iniziamo. Aspetta. Inizio. Inizio. Cioè, aspetta. Io metto le cuffie. Va bene. Ok. Una iniziana, bella. No, no, metto una cazzetta, tranquilla. Metto una in spagnolo, così mi confondo le idee. Aspetta. Massimo volume. Aspetta, no. Sono abbastanza alto. Sembra Romeo e Giulietta. E perché così lo intendo? Ecco, così lo intendo proprio, vai. Allora. L'Orso Yogi. De Yogurt. L'orso. 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 Higui. Oghi. Higui. 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 Mangio. Mangio. Man gio. Ah, mangiò? tutti. Tutti. E otti. Tutti, tutti, i, i, i biscotti, biscotti, con, 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 le, le bacchette, racchette, bacchette, cinese, jeans, cinese, avanti, è Nicola, senti, ho dato, ho dato, la pillola, la, la pillola, al gatto, al gatto, al gatto, al gatto, ma è diventata, ma è diventata, è diventata, molliccia, 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 non è italiano, perché, è scappato, è scappato, dentro, 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 il coccio, il corpo, il coccio, il coccio, il coccio, Coccio del pesce Del pesce Del pesce Non ha senso Il coccio del pesce non ha senso Ok vedo io Comunque c'è Nicolò Non si vide, non lo so se si vide Aspetta Fammi trovare una più La Befana La Befana Befana La Befana Rimase Rimase I maschi Rimase Rimase Incinta Incinta Sì Perché Perché Scopo Non è una brutta cosa Scopo Tutta Tutti Tutta Tutta La casa La casa Di Di Il Di Babbo Natale Babbo Natale Il cactus Il cactus Cactus Vestito da T-rex Vestito da T-rex Da T-rex T-rex Ha Ha Mangiato Mangiato Il marshmallow Il marshmallow Un barumbo Con la cioccolata Con la cioccolata Con la cioccolata Nella tazza in bagno Del bagno Nella tazza in bagno Dalla tazza in bagno Nella tazza in bagno Sì Ok Ho Ho Una 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 Un gatto Una balena Un'americana Una balena Una penna Una balena Una palla Una palena Ma Una paluya Balena Balena una palina Balena Una balena s desperta Sì Nella salla Sella Sella che che non trova non ruba, non ruba, non trova, 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 non trova, trova, non trova, la via, la vite, la via, la vita, la via, la via, la via, di casa, di strada, di casa, di casa, 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 la pioggia parigina, la pioggia parigina, la pioggia parigina, la pioggia parigina, margoncino, mancina, parigina, piangina, si è trasferita, si è andata a finire, si è trasferita, si è trasferita, in Cina, in Cina, ok, per seguire, per seguire, la nonna, la nonna, che prepara le tagliatelle, che gli prepara i dolci, le tagliatelle, le tagliatelle, ok, la seconda parola era parigina, che era la seconda parola, parigina, 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 la nutella, la, 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 la mortadella, nutella, 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 ha il senso, uccise, 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 tutta, 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 la, la, frutta, frutta, La torta frutta, 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 frutta in casa, in classe, in casa, perché era mestruata, struccata, mestruata, mestruata, che cos'è, quella cosa che ho addosso, era vestita, ha il ciclo, era vestita, adesso tutti quanti sanno che ho un ciclo, si è preso, si è aggiunto anche Nicola, andiamo, ok, la maestra, la maestra, la maestra, ha preparato, ha preparato, preparato, la pizza con la salsiccia, la pizza con la salsiccia, con la ciccia, la maestra, la maestra, ha preparato la pizza, ha preparato la pizza, con la salsiccia, con la salsiccia, e la mortadella, e l'hanno mangiata tutti i topi dell'hotel, e l'hanno mangiata tutti i topi dell'hotel, i topi dell'hotel, in compagnia, i topi dell'hotel, i topi dell'hotel, con il cortello, i topi, con il naso, no, i topi, non dico, non dico, ecco qui, Nicola, muovi giù la mamma, sì, muovi, 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 Sì, ora devi salutare, va bene? Ora ti faccio salutare, però devi stare dritto adatto. Va bene, le domande, sì. Però stai fermo, ora così? Oh, sì. I topi... I topi? Dell'hotel. Del locale? Dell'hotel. Dell'hotel. Hotel. Diagonale. Dell'hotel. Vai a dormire. Dell'hotel. Dell'hotel. Benissimo. Grazie, le prese sono finite. Sono fatte un po' capo. Quattro risate. Nicola devi salutare perché da mezz'ora dice che vuole salutare. Vuoi dire anche tu le domande? Vuoi dire anche tu le domande? La vuoi sentire con la tua musica? Anche, sentire anche tu. Dai, vieni a salutare, ti voglio salutare. Ti voglio dire ciao. Vuoi salutare? Mi vuole salutare. Allora, le frasi sono finite definitivamente. Anche Nicola ha partecipato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.